La benedizione dei palli per i nuovi 46 arcivescovi metropoliti nella Basilica di San Pietro e il richiamo di Papa Francesco alla preghiera, alla fede e alla testimonianza sono questi i due momenti forti della Messa celebrata stamani nella solennità dei Santi Pietro e Paolo. Nell'Omelia, ricordo delle atroci, disumane e inspiegabili persecuzioni contro i cristiani ancora oggi presenti in tante parti del mondo e spesso sotto gli occhi e nel silenzio di tutti. Alla denuncia di Francesco segue l'esaltazione del coraggio degli apostoli che evangelizzarono senza paura della morte. Una testimonianza che richiama la preghiera perché una chiesa in preghiera è solida e un cristiano che prega è protetto, custodito e non è solo. Spesso è l'angelo ad aiutarci, a donarci una carezza, a consolarci anche se, presi dalla paura, lo lasciamo fuori dalla porta. Poi c'è la fede che dona forza pure dinanzi a chi, da dentro e da fuori, cerca di annientare la chiesa che però resta feconda e viva. La chiesa, afferma il Papa, non è dei papi né dei fedeli ma di Cristo. Infine Francesco sottolinea la necessità di essere testimoni coerenti. Una chiesa o un cristiano senza testimonianza è sterile. Un morto che pensa di essere vivo. Un albero secco che non dà frutto. Un pozzo arido che non dà acqua. La chiesa ha vinto il male grazie alla testimonianza coraggiosa, concreta e umile dei suoi figli. La chiesa ha vinto il male grazie a tutti.